Abbiamo raccontato nelle scorse settimane i lavori dell'86esimo capitolo generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, 173 frati capitolari da 100 paesi del mondo riuniti a Roma per eleggere non solo il Ministro Generale e il suo Consiglio, ma anche per affrontare le questioni più importanti che riguarderanno i Cappuccini nel prossimo sessegno. E io questa mattina sono contento di ospitare nei nostri studi, anche se purtroppo solo virtualmente, il Consigliere Generale Fra Maurizio Placentino, che ci aiuterà un po' a capire e anche a tirare qualche somma rispetto a queste tre settimane di lavori. Fra Maurizio, ben trovato, pace e bene, grazie per essere con noi. Pace e bene, grazie a voi dell'invito. Dunque Fra Maurizio, innanzitutto auguri per questa nomina così importante, a conferma insomma anche del lavoro svolto nell'ultimo anno, quando sei stato chiamato a sostituire proprio Fra Francesco Neri, che abbiamo ascoltato prima nell'intervista, nominato Arcivescovo di Otranto, il Ministro Generale ha designato te, quale appunto Consigliere Generale per il Ceto Italiano. E allora, proviamo a trarre un piccolo bilancio di queste tre settimane di lavori del capitolo, che noi, come avete detto, abbiamo seguito giorno per giorno, abbiamo visto essere denso di argomenti, di spunti di riflessione. Sì, ecco, innanzitutto grazie proprio perché ci avete seguiti, avete permesso a tanti di essere collegati a noi, a questo evento che ha coinvolto tutto l'ordine. Ecco, il primo bilancio è quello sicuramente di un'esperienza fraterna, il capitolo generale è un evento straordinario. Ecco, bisogna considerare che nella vita di un frate può capitare di parteciparvi due, tre volte, alcuni non partecipano mai a questo evento. Ed è un momento in cui innanzitutto si fa esperienza dell'universalità del nostro ordine. Vedere frati di tutto il mondo che si ritrovano, che sono lì insieme, da fratelli, si conoscono, e vivono un intenso momento di scambio, è un'esperienza effettivamente unica. Ecco, ce lo dicevamo tra noi, ci stupivamo di vedere così tanti frati riuniti. E poi, come dicevate, sicuramente è stata l'occasione per affrontare tematiche fondamentali. Credo che Papa Francesco un po' ha centrato, ci ha richiamato di non prestare troppa attenzione alle strutture, ai numeri, ai problemi, ma quanto più al nostro essere. Poi vengono le problematiche. La prima cosa è quello che noi siamo, rivitalizzare con la fiamma del nostro carisma, quello che ci stiamo dicendo da tanti anni. Quindi il primo compito del capitolo, credo, sia stato proprio questo. Fra Maurizio, il Papa vi ha ricevuto in udienza con grande affetto, come sempre, e nel suo discorso ha parlato di tre caratteristiche fondamentali, tre dimensioni della spiritualità francescana, che sono la fraternità, la disponibilità e l'impegno per la pace. Parlando della fraternità, il Papa vi ha esortato a non essere isole. Quali sono e come si superano le difficoltà del vivere insieme e quindi poi di essere esempio anche per gli altri? Ecco, sì, in effetti questo è l'essenza un po' del nostro carisma, la fraternità. Ce lo siamo ripetuti in questi giorni, il Papa lo ha detto, la fraternità è al centro. Ed è quello che Francesco ci ha voluti così nella Chiesa, come segno e annuncio di fraternità. Ecco, oggi è una testimonianza che noi vogliamo dare, ci siamo detti come ordine, a un livello universale. Cioè, il tema principale del capitolo è stata la collaborazione, ma proprio in questo senso, come la capacità di vivere insieme di frati provenienti da più parti del mondo. Ecco, in una società multiculturale, in una società di grandi movimenti, di popoli, di persone, ecco, questo può essere un annuncio veramente importante, la capacità di vivere insieme nella nostra diversità. È una caratteristica del nostro ordine e il Papa ci ha richiamati essenzialmente a questo. Credo che superare le difficoltà per noi ha solo una chiave, quella di essere in Cristo. Possiamo vivere insieme, possiamo ritrovarci insieme, persone di tante estrazioni, di tante, provenienti da tante parti diverse, perché in Cristo troviamo la nostra unità e il senso del nostro essere insieme. Senti, Fra Maurizio, ascoltando le parole di Papa Francesco abbiamo visto che il Papa vi vuole bene, in sostanza, perché utilizza con i cappuccini, ormai è una consuetudine, abbiamo imparato anche ad apprezzare questa cosa, che, insomma, si rivolge a voi davvero come se fosse uno di voi, nonostante, ecco, non condivida lo stesso abito, potremmo dire così. E' una delle frasi che mi è molto piaciuta riguardo al tema della disponibilità, una delle tre pilastri del discorso che Giulia citava. Appunto il Papa diceva, voi cappuccini avete la fama di essere pronti ad andare dove nessun altro vuole recarsi. Ecco appunto il tema della disponibilità, mentre a proposito di disponibilità vediamo anche alcuni volti che comporranno il prossimo Consiglio Generale, persone che, insomma, a proposito di disponibilità dovranno lasciare i propri luoghi, le proprie province, recarsi a Roma. Dunque una missionarietà che consiste anche in questo. E allora, il capitolo, cosa ha fatto emergere da questo punto di vista? Considerando anche che ci avviciniamo all'ottobre missionario, dunque un mese dedicato alle missioni, e anche il sinodo poi ha in qualche modo puntato l'attenzione sul tema dell'essere disponibili, dell'essere missionari. E' così, questo della missione è stato un altro tema fondamentale del capitolo. Quello che emerge oggi è diciamo un cambio delle frecce di direzione. Un tempo si partiva dall'Europa per andare a essere missionari in alcune terre, in Africa, in Asia, e in altre zone del mondo. Oggi è cambiata la direzione. Oggi tanti frati, da questi luoghi dove i cappuccini nel passato hanno lavorato, hanno costruito chiese, hanno costruito comunità, da questi luoghi oggi tanti frati sono chiamati a venire nella nostra Europa, a venire nel mondo occidentale per aiutarci, per mantenere vivo il nostro carisma, per aiutarci nell'azione pastorale, ma come dicevo prima, per dare anche un nuovo volto alla nostra testimonianza di fraternità, appunto il volto della collaborazione, dell'essere insieme. Ecco, sicuramente i consiglieri che sono stati chiamati, proprio ieri siamo venuti qui in Curia, abbiamo concluso il capitolo, e alcuni di loro effettivamente sono così, con una piccola borsa, si trovano catapultati in una nuova realtà, in un nuovo compito, e adesso ci sarà qualche mese di assestamento, molti di loro sono attualmente provinciali, quindi devono consegnare un po' questo loro servizio ad altri frati, e avventurarsi con sei anni particolari, nuovi, con un compito effettivamente diverso da quello che finora hanno fatto. E infine l'impegno per la pace, fra Maurizio, come continuerete la vostra missione di frati del popolo? Ecco, nel capitolo ci siamo detti che l'impegno per la pace, per la giustizia, per la salvaguardia del creato, è parte del nostro DNA, quindi al di là anche delle iniziative concrete, che possiamo prendere nelle varie parti in cui siamo presenti, è proprio ribadire la nostra identità in questo, il nostro impegno per la casa comune, essere fraternità, significa prendersi cura anche del luogo in cui abitiamo, in cui viviamo. Ecco, tanti di noi vivono in luoghi di difficoltà, dove essere cristiani è anche difficile, dove la società vive momenti particolarmente di prova. Ecco, l'impegno dei frati è quello di esserci, di rimanere, di stare accanto anche alle persone che vivono situazioni così particolari. Durante il capitolo una serata è stata dedicata proprio a questo, ad ascoltare i fratelli che vivono situazioni di particolare difficoltà, di particolare prova. Il nostro impegno è quello di esserci, di rimanere accanto alla gente, di continuare a testimoniare una fraternità possibile. Quindi esserci è l'ascolto fondamentale. Esatto. Grazie, Fra Maurizio. Prima di lasciarci, è una domanda che abbiamo fatto qualche giorno fa anche al professor Giovanni Chifari, quando abbiamo aperto un po' la nostra novena in preparazione alla festa di San Pio. Ed è un dato che emerge, direi in maniera forte, quasi prepotente, perdonami anche un po' l'aggettivo. E' il fatto che Francesco continui ad essere giovane, nonostante noi ricordiamo ormai centenari, anniversari centenari, domani saranno gli 800 anni delle stimmate, ma tra poco parleremo anche dei 500 anni dell'ordine cappuccino, dunque sono date importanti. Nonostante questo emerge la giovinezza, la freschezza anche di Francesco, che passa principalmente attraverso la missione, l'opera, ma direi soprattutto l'esempio, come diceva anche Paolo VI, il mondo ha bisogno di testimoni, non di maestri. Sì, ecco, sicuramente il carisma francescano è un dono che Dio ha voluto fare alla Chiesa e che, come dicevate, continua a dire qualcosa al mondo di oggi. Il capitolo ci ha dato anche la gioia di vedere questa giovinezza che magari viene meno in alcune zone del mondo, ma è evidente e forte in altre zone. Ecco, questo è stato anche un frutto del capitolo, quello di capire che abbiamo bisogno gli uni degli altri, di sostenerci affinché appunto il carisma di Francesco, così vivo, così importante per l'umanità, possa essere portato avanti da, ecco, le nostre povere esistenze anche. Fra Maurizio, noi ti ringraziamo per averci fatto entrare un po' nei temi del capitolo, ti ringraziamo per essere sempre disponibile, quando ti chiamiamo soprattutto. Davvero, grazie di cuore, Fra Maurizio, ti ritroveremo nei prossimi giorni qui a San Giovanni Rotondo, l'abbiamo detto. Eh sì, più volte, più volte. Il 21 a presiedere la celebrazione, poi penso sarai anche con noi nei giorni della festa. Noi ti aspettiamo. Avremo modo di incontrarci, di persone, di salutarci. E nel frattempo ti auguriamo davvero un in bocca al lupo, buon lavoro anche al Ministro Generale, ovviamente Roberto Genuine, che abbiamo, ecco, ricordato il giorno della rielezione. Dunque, un abbraccio a tutto il Consiglio Generale per questo servizio così bello, così importante. Grazie, grazie di cuore. Grazie a voi e un saluto a tutti gli amici che ci seguono. Grazie ancora, andiamo in pubblicità. Grazie.